Benvenuti a tutti in un nuovo video come avete detto ho cambiato look mi sono fatta completamente rossa finalmente sono rossa perché la tinta che avevo prima non era una tinta ma era comunque un pigmento e per questo diciamo mi ero un po' stancata anche perché mi si era scolorito tantissimo il colore e fortunatamente ho trovato una brava parrucchiera qui a Udine dove mi ha fatto un decapaggio una pulizia del capello vi posso garantire che è stata bravissima perché i capelli non si sono per niente niente rovinati mi sono fatta di questo bel rosso fuoco oggi vi andrò a fare il look che mi vedete che vi posterò la foto qua che chi mi segue su Instagram l'ha già visto è un look un pochettino vecchino fatto un po' di tempo fa comunque solo ho già avuto la possibilità di poterlo registrare ve lo registrate, è molto semplice in quella foto avevo le lintine ve lo faccio vedere anche sul naturale perché con la bronzatura sta da dio come vedete quest'anno sono molto 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 abbronzata in più vedrete nel video che mi sono spruzzata un'acqua profumata dalla marca Balea che è bellissima dove non so se si può vedere dal video ma rilascia dei micro brillantini color oro che sono di una cosa fantastica e in più ti rinfresca comunque la pelle questo è il look che ho realizzato è veramente molto molto bello quanta volte ho detto molto? tanto vedete? stupendo veramente poi questi orecchini con questa bronzatura sono veramente il top sono stupendi soprattutto così con i capelli tirati su in questa maniera è il massimo fanno una luce pazzesca vedete che belli che sono e questi me li ha regalati le mie amiche Natascha insieme a questo bracciale che vi ho fatto vedere nei video dei regali di compleanno vi do un bacione seguitemi iscrivetevi al mio canale lasciatemi un commentino qui sotto se in tal caso non ci vediamo per un altro tutorial vi auguro buone vacanze estive un bacio e al prossimo video ciao 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 ciao